Cosa c'è di novità di questo modello? Che pesa pochissimo, pesa soltanto 25 kg, perciò facilissimo a trasportare. Altra novità di quest'anno per la nostra azienda è una tavola E-Foil marchiata Audi, E-Tron Audi per l'esattezza. Velocità massima 50 km l'aria per planare, anzi per volare sull'acqua. Ci vuole un attimino di tecnica, ma con una lezione data da professionisti niente è impossibile.